E' partita ad Arezzo alla volta del campo sportivo di San Fatucchio di Castiglione del Lago una carovana di moto per dare l'ultimo saluto ad Andrea Antonelli, il motociclista 25enne di Castiglione del Lago morto domenica scorsa in un incidente nel circuito di Mosca in Russia. Il promotore dell'iniziativa è stato il pilota e suo amico Luca Scassa. Domenica partecipava anche lui a quella competizione e da quell'incidente è rimasto notevolmente scosso. Ancora commosso, Luca non se l'è sentita neanche di spiegare i motivi di questa iniziativa di far partire proprio da Arezzo una carovana di moto di appassionati di questo sport per partecipare ai funerari. La carovana è partita proprio dall'officina di Scassa che su Facebook aveva dato i dettagli dall'iniziativa. Il ritrovo alle 16 presso la sua officina Punto Motocorso in via Galvania ad Arezzo e poi la partenza alle 16.30 verso Castiglione del Lago dove alle 18 sono iniziati i funerali al campo sportivo di San Fatucchio. Spero di vedere tanti motociclisti partecipare con ogni tipo di moto, aveva detto Scassa. Più saremo e più conforto potremo portare alla famiglia di Andrea. Ed effettivamente la pattuglia partita dalla nostra città era molto nutrita.